La 24 ore Castelli è un po' una droga, nel senso che la fai una volta e dici però è stancante, mi diverto tanto, però basta, l'anno posto non è facile. E poi arriva a maggio, che non vedi l'ora che arrivi, la data è la 24 ore, quindi è una festa in realtà travestita da gara, perché in realtà è una grande festa in cui si diverte tutti quanti e si sta in compagnia, questo è il valore, sono un po' i valori che siccome trasmette la Castelli, è tutto il gruppo imprenditoriale. Grazie a Castelli e a questa meravigliosa gara e evento.